Buongiorno Buongiorno Giulia, buongiorno Buongiorno Anche con Una certa tranquillità E' da suonare la campana Valentina Buccolini Giulia, buongiorno Avvocato sembra davanti Sembra davanti addirittura Giulia, buongiorno Sarà una questione ovviamente di piazzamento, poi sulla linea di... E qui abbiamo tre ragazze nel Giro della Nazionale, un gran partenza di Ilaria Carverra, come al solito, rimane davanti, già ha preso un buon vantaggio, seguita da Melissa Gatti, la vice campionessa del mondo, Ilaria Carverra, Melissa Gatti. Poi Zanoni in terza posizione, Carverra e Gatti, bassissima, schiacciatissima, come di consueto, già sono andata la campana per loro, hanno un buon vantaggio, basta Camillo che è già in terza posizione, ma probabilmente è tardi per tentare di ricucire Carverra e Gatti, Carverra e Gatti in finale. Ilaria, 45.30 il tempo, quindi Melissa Gatti, Ilaria Carverra, Valentina Boccolini e Giulia, buongiorno. Di...